Siamo Taranto, un'associazione che davvero si rimbocca le maniche, che fa tanto per l'igiene, la pulizia, per la raccolta differenziata a Taranto. Abbiamo visto tante domeniche, ora con l'estate si è optato, mi pare, per la giornata infrasettimanale, per far sì che almeno la domenica uno se ne va ad amare con la famiglia, con gli amici, però l'impegno per il territorio è sempre costante. Allora abbiamo una rappresentante di Siamo Taranto, la signora? Esther Lincesso. Che ruolo ha nell'associazione? Sono una volontaria. Una volontaria. E allora parliamo di questo vostro impegno, com'è nata in lei questa passione, le soddisfazioni, i momenti belli e meno belli, perché poi magari voi vi impegnate tanto, però vedete certi incivili, certi sporcaccioni, e beh, la rabbia ti viene. Sì, purtroppo sì, la rabbia ci viene quando diamo tanto, ci prodighiamo per fare tutto questo, per far sì che la nostra città diventi una città enorme del... A misura d'uomo e a misura, diciamo, di rifiuto, sarei dire. Sì, mi allaccio a ciò che ha detto il Presidente, che prima parlava del fatto che... Io sono una tamburina, tanto per cominciare. Mi parlava e mi diceva che il 68%, beh, io a questa cosa non ci credo molto. Piuttosto mi rifaccio di nuovo a lui su una cosa che ha detto, che il cittadino deve partecipare. E qui, purtroppo, al quartiere il cittadino non partecipa. Non partecipa per nulla, perché io stessa, ogni volta che trovo qualcuno che lo ribecco, beh, rischiamo di prendere mazzate. Allora, diciamo che purtroppo in certa gente c'è tanto da scrostare come mentalità. Gli sporcaccioni ci sono, però io sono convinto che un'azione continua, costante, produca i suoi frutti, seppure con enorme sacrificio. Come no? E come dice la nostra Francesca Boccardi, ce la faremo e noi siamo Taranto. Tanta fatica, tanto impegno, tanta rabbia, però alla fine, io dico, la parte sana è prevalente. Certo, basta qualche sporcaccione per vanificare il lavoro di tutti quanti voi, però molte volte, vedete, quando si crea un contagio positivo, è il caso di dire un contagio, cioè ora mai sia parlare di positività in questo periodo di Covid, però dico contagio positivo nel senso più bello, più nobile del termine, nel senso di uno spirito di emulazione, cioè far sì che veramente ognuno voglia fare meglio dell'altro in ambito di differenziata, in ambito di rispetto dell'ambiente, beh, io penso che questa tenaccia prima o poi paghi, seppure con sacrificio. Spero di sì, spero di sì, noi ce la metteremo tutta e più che sporcaccioni parlerei degli incivili, perché poi gli incivili ci sono ovunque, non solamente qui nel quartiere di Tamburi. Ovunque, lo so. Sì, io giro un po' per così, anche quando mi rico al lavoro vedo delle cose proprio inaudite, però voglio dire una cosa, che loro sono puliti dentro e sporchi fuori, e questo è il danno maggiore. Grazie. Grazie.